L'Accademia Magna Grecia, in collaborazione con il Parco archeologico di Pestum, presenta la sesta edizione della rassegna teatrale estiva, prevista per il 16-18 settembre 2016 agli ore 21.30. Per la prima volta nella storia, tutta la città antica di Pestum diviene palcoscenico di uno spettacolo indimenticabile. Pestum Polis Aperto è uno spettacolo in prosa e musica, itinerante negli spazi ritenuti da ogni degli scavi, scritto in esclusiva per la polis antica di Pestum. Lo spettacolo, odiato e scritto da Sara Falanga, è prodotto dall'Accademia Magna Grecia. Avvalendosi di un forte contributo poetico e musicale, il testo drammaturgico inedito contiene il racconto e le testimonianze di una storia unica, quella di Pestum, partendo dalle origini fino ad arrivare ai giorni nostri, includendo anche tutta la storia post-antica del sito. Lo spettacolo è rivolto sia al pubblico adulto che al pubblico di studenti ed è finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del sito antico.